Musica E siamo qua alla scuola in coro Alberto Manzi Dell'istituto Paracolico E siete la classe Terza P Oh con queste voci vostre idilliche così belle Parliamo del vostro progetto che si chiama Un tuffo nell'arte Una vera e propria Come si dice Mostra di arte di quadri realizzati da voi giusto Chi me ne vuole parlare Chi me ne parla Te Ok Francesco tocca a te Hanno puntato il dito su te Vieni Franci Che cosa avete realizzato Francesco? Dei disegni E abbiamo messo in mostra E qua abbiamo fatto il puzzle E prima l'abbiamo disegnato E poi la maestra l'ha plastificato Allora vediamo Vediamo qua avete il puzzle Che poi ci possono giocare le persone E questi disegni invece come li avete realizzati? Voi? Con la maestra di arti? Sì sì Allora prima di tutto abbiamo Abbiamo visto su internet i disegni Ok E poi li abbiamo ricopiati E disegnati colorati Che sono questi dipinti di Marcello Scuffi Quindi avete studiato questo artista Marcello Scuffi Vero prof? Non lo conoscevano questo artista? No L'abbiamo conosciuto tramite internet Perché i bambini avevano fatto un'uscita Presso il museo di Quarrate Avevano visitato la casa dei mestieri E quindi da lì poi è partita l'idea Di lavorare sui musei E quindi scegliere anche delle opere Di un artista famoso E la scelta è caduta su Marcello Scuffi Quindi sono stati loro a individuarli A decidere quali fare A riprodurli Quindi era un artista quadratino Quale è proprio scomparso recentemente Sì Quindi avete anche essendo di Quarrate Avete scoperto qualcosa in più Sul vostro paese che vi riguarda E qua avete il QR code Dove possiamo vedere anche il vostro Il nostro video che abbiamo riprodotto Tutte le attività e tutte le fasi Guardate qua Inquadrate Inquadra il QR code Bambini Io vi ringrazio È molto bello Abbiamo anche il Il mio capo Ah Quindi vuoi dire Volete spiegare come l'abbiamo realizzato? Vai Allora praticamente abbiamo fatto i disegni Ho capito bellissimo Poi abbiamo Oh oh Qua scato Un di qua Salve Questo accengo io Questo è bello della diretta Guarda sentiamo bambini che ridano felice Poi abbiamo disegnato Abbiamo ritagliato E li abbiamo messi qui E praticamente le devi Piegare E poi devi trovare il disegno Ah fino a trovare l'incastro giusto Bambini grazie Io sono un po' maldestro Credo di aver rovinato qualcosa Ma spero di no Ah no credevo Cioè io smonto tutto Bene io vi saluto in questo quadro Che non me lo porto via Ma dopo lo rincolliamo Ecco anche questo è di Antonio Oh scuffi Di Marcello Marcello scuffi Antonio Marcello Con questi nomi Bambini Pronti a dire al mio 3 1 2 3 si geniale Ok 1 2 3 si Geniale Ughh Il 1 2 si 1 2 si 1 3 si Un 1 4 6 6 8 Anche 7 Grazie a tutti.